Rischiano 450 euro di sanzione pecuniaria ai titolari di sale giochi di Gualdo Tadino che non adegueranno i loro orari all'ordinanza del sindaco che regola le ore di apertura di tali locali. In particolare nel periodo di apertura delle scuole le sale dovranno rimanere chiuse la mattina e potranno aprire solo dalle 14 alle 24 in tutti i giorni feriali e festivi. Negli altri periodi è consentita l'attività anche dalle 9.30 alle 12.30. Un modo per tutelare le fasce più giovani ed arginare o prevenire il fenomeno di presenza di studenti in orario scolastico in sala giochi piuttosto che in aula. Diciamo che questa è un'azione preventiva innanzitutto. Purtroppo chi ad oggi è vittima perché di questo si tratta del gioco d'azzardo è quasi esclusivamente persona adulta quindi con maggiorenne in grado di espletare al massimo tutte le sue capacità intellettive. Però credo che una città normale debba tutelare e salvaguardare i propri concittadini a partire da più giovani e anche educarli a forme di vita corrette. Siccome non demonizzo nessuno anche rispetto all'attività legale che si fa nel gioco però resta altresì convinto che questo fenomeno va combattuto. Non credo che chiudere tra l'altro non solo le sale giochi che sono pochissime ma esercizi commerciali che hanno anche i giochi quindi non sono esclusivamente entrare al gioco. In orario scolastico quando c'è la scuola o limitarne l'apertura in periodi extrascolastici di due o tre ore non comprometta la tenuta economica dell'attività medesima. Il sindaco di Gualdo Tadino si è detto soddisfatto innanzitutto che il suo comune sia stato il primo in Umbria a recepire la nuova legge regionale per la prevenzione della ludopatia che vieta ad esempio l'apertura di sale giochi in prossimità di scuole ed edifici di aggregazione mettendo delle regole sulle distanze minime da rispettare. Un atto passato all'unanimità in Consiglio Comunale a cui è seguita l'ordinanza sindacale sugli orari che ha ancora di più normato tale attività. Non è una guerra contro le sale da gioco dice Presciutti ma solo un atto di responsabilità auspicabile anche da parte di tutti gli altri primi cittadini Umbri. Tutti a parole dicono che la ludopatia è una piaga sociale che bisogna in qualche modo limitare e combattere attraverso un confronto anche con chi legittimamente e in maniera trasparente svolge questo lavoro, però per quanto mi riguarda le norme si applicano, anche in questo caso poche chiacchiere in molta sostanza.